salve a tutti ragazzi ben ritrovati come state tutto bene bene mi è stato chiesto da damiano andiamo subito al succo che cosa faccio io per scaldarmi prima della pre gara lo devo aver già detto ma chissà dove finito il video perché di solito questa cosa la dicevo quando faccio le live tiro spiego questa cosa l'ho detta molte volte ma cercherò di essere più specifico visto che sto facendo un video inerente a come mi riscaldò prima di una gara anche se un po che non lo faccio ma lo rifarò e per come gioco saranno cacchi bene allora prima cosa cerco di capire come sto cioè come mi sento fisicamente mi sento bene mi sento a posto mi sento in forza non sono stanco non ho indurimenti di spalle visto perché poi io faccio un lavoro dove sto molte ore seduto nello stesso punto quindi di solito mi si induriscono le spalle quindi cerco sempre di togliere la tensione sulle spalle se ho questo se invece mi sento bene faccio pochissimo nel senso che se sto mi sento veramente bene faccio un paio di tiri al centro rosso perché quando mi viene rosso quando riesco a mettere le frecce qui vanno da tutte le parti e di solito quando ne metto tre sul centro che sia rosso verde io sono a posto quando mi sento quando mi sento bene questo è quello che è perché tanto so che va tutto no quando sto veramente è poi quando invece sono un po che sento un po indurito un po il braccio magari mi fa male per la posizione del giorno magari mi sento un po stanco è allora tiro sempre un paio di frecce al bersaglio sia burrosso cerco di metterle tre dentro poi faccio un paio di tiri al 20 che tutto questo sarà in una trentina di frecce insomma non trentina di tiri ma di frecce quindi una decina di tiri cerco di prendere la velocità perché la direzione nel mio caso è difficile che io sia fuori direzione magari mi capita un tiro o due ma poi mi sistemo velocemente perché quando abbiamo la consapevolezza del perché sbagliamo stai un attimo a risistemare no la direzione è difficile che questa cosa mi rimanga no ho io un po più il problema della velocità quando sono stanco quindi tiro un paio di 18 20 frecce al bull poi faccio una stessa cosa sul 20 e poi faccio se vedo che non mi viene no che vado un po troppo sunto troppo giù faccio 20 19 18 con le tre frecce per cercare di sistemarmi e capire bene qual è il problema maggiore se la velocità del del tiro se devo stare più dritto perché tante volte tendo a fare troppo così non va bene devo stare dritto con la mia schiena fare e lanciare se sto troppo troppo così le frecce vanno un po più bassi devo stare proprio così sto dritto con la mia schiena rilassato come sempre rilassato e tutto funziona dopo aver fatto questa cosa tiro ai doppi tiro il doppio 20 tiro al doppio 16 tiro al doppio 18 e cerco di capire proprio velocemente faccio due tiri al doppio 20 nel senso di sei frecce sei frecce al doppio 16 e sei frecce al doppio 18 se ne faccio il doppio che faccio di più cioè il doppio che prendo di più quella sera perché non è sempre uguale non bisogna come quelle a tiro sempre a 16 a tiro sempre al 20 a tiro sempre al 18 no perché non si è sempre nella stessa condizione nello stesso momento quindi può essere che una sera ti vada il 16 poi tirarlo così e ti va dentro volta che vai lì fai così la frecce si sposta ok quindi cerco di capire quella sera qual è il doppio che mi viene meglio ok anche se poi in settimana magari vedevo di avere un po di problemi nei doppi cercavo di capire qual è il doppio che mi veniva prima 6 6 6 e 6 ok fatto questo decidevo quale era il doppio della serata no poteva essere 16 mettiamo no e cercavo di portare la mia numerazione al 16 se non chiudevo in un altro modo insomma o se vedevo che il 16 non mi veniva perché magari mi andavano tutte leggermente esterne ecco perché può capitare cercavo di andare se il 20 andava giusto andava al 20 ok ma se al 20 mi andava come molti giocatori ne ho già parlato vediamo molti giocatori che giocano al doppio 20 e la freccia vediamo alzo un po vedete accendo anche questa luce così magari vedete meglio quando la freccia va qua sotto ogni volta che tirate al doppio 20 vuol dire ragazzi che la quella sera il doppio 20 no è inutile che continuate ne ho visti un sacco fare sta cosa perché tirano il doppio 20 qui il doppio 10 va qua poi cerca di sistemare e quindi non va non ci sono cacchi capite non ci sono cacchi quindi bisogna essere versatili ok si può avere il il doppio preferito ma bisogna essere in grado che almeno questi tre no 16 20 18 siano fondamentali cioè che potete essere una sera va una sera come ho detto un po di tempo fa ho fatto soltanto ho tirato soltanto ma mi dà fastidio la luce scusate non mi veniva il triplo 20 non mi veniva il triplo 19 ma facciamo facevo una valanga di triplo 18 se era in posizione del corpo triplo 18 manetta ho fatto 20 19 18 triplo 20 19 18 triplo detto bomba fa un brodo tira sul 18 triplo perché 162 non fa schifo eh capito non bisogna essere versatili bisogna cercare di non bisogna essere una cosa fondamentale essere fissati su un punto a io tiro lì io tiro lì io tiro lì no perché non ha senso vuol dire non essere veloci di cervello non avere la visione di quello che sta succedendo perché non è sempre uguale ogni sera può essere diversa quindi per cui bisogna essere veloci veloce molto importante questa cosa veloce capire qual è il tuo problema di quella sera e cercare di modificare il tuo gioco dietro come sei quella sera perché non siamo sempre uguali se tu ti metti lì perfetto bello e tira il ventitriplo e il ventitriplo non ti viene manco per la fava perché capita ragazzi capita capita è campione hai visto la partita di premier league sopra sotto sopra sotto sopra sotto in un dentro basta vai sotto finita cioè cambia devi cambiare essere in grado di cambiare poi magari cambi tiri un paio di volte alle 19 al 18 prendi un po' di fiducia in te stessa poi ti alzi puff e ricominciano ad entrare il venti ma è inutile fissarsi sulle cose il nostro obiettivo è arrivare il più velocemente a zero quello è il nostro obiettivo e bisogna cercare di trovare il modo ad essere versatili per arrivarsi il prima possibile ci sono delle sere in cui il tuo triplo venti non viene non è che continuare assi ma prima o poi verrà no che viene uno magari due in una partita ma se all'altro gli vengono sei sotterrato se invece tu riesci a capire di spostarti di andare sul 19 sul 18 velocemente per svarionare il tuo cervello capisci questa cosa ho divagato ma è importante questo altra cosa che questo è quello che facevo a livello di freccia c'è stato un periodo che non mi trovavo bene con le mie frecce e me ne portavo due portavo tipo le mg magari all'epoca non avevo le mg avevo le kiddell e le altre frecce che usavo adesso non mi sovviene mi sono dimenticato ma comunque è un altro paio di frecce adesso non mi ricordo quelle erano facevo un paio di tiri con uno un paio di tiri con l'altro e vedevo quelle che mi davano la sensazione del migliore un po la peter wright ok quella quando cominciavo poi partivo andavo con quella freccia l'ho fatto per un periodo perché non non riuscivo a capire bene certe cose non c'erano delle scene in cui veramente anche le van gerber proprio non mi andavano cambiavo freccia può essere sicuramente una cosa mentale cambiavo freccia che poteva essere che i dell'ero adesso non mi viene su qual era l'altra freccia che usavo perché ne ho usato un paio dipendeva dal periodo bastava che facessi un paio di tiri con un'altra freccia pulivo e poi ricominciavo a tirare a soft questa cosa non mi è mai successa perché le frecce di van gerber fondamentalmente quelle da da soft non ho mai avuto problemi forse una volta ma durato 30 secondi capito subito che non ha che non ha aria quindi quando abbiamo capito questo cioè che abbiamo visto come sta andando la giornata come perché poi cambia cioè nel senso che tutti ti riscaldi sul momento ma poi fra dieci minuti può essere già diverso ma bisogna sempre scaldarsi quell'attimo per avere sciogliere le braccia sciogliere il braccio questa è una cosa fondamentale perché sennò e soprattutto nelle prime nelle sei frecce che si tirano prima di cominciare il scaldamento potrebbe essere sei o nove frecce insomma dipende a stella che si può fare un paio di frecce poi si si mette d'accordo con l'avversario basta cominciamo no e quelle lì 20 19 18 primo tiro secondo tiro burrosso 32 40 questo era quello che facevo io sempre e l'ultimo giro che di solito era 9 diciamo facevo magari quella cosa che mi sembrava doveva avere più difficoltà ma un'altra cosa che facevo sempre è lavarmi le mani io non sudo ok non ho la mano sudata quindi non uso quella quella specie di cera per asciugare le mani io ce l'ho talmente asciutte che che ho bisogno di bagnare un po' perché perdo la sensibilità no perché proprio è come carta vetrata le mie mani no quindi me le lavo le lavavo sempre se era caldo le lavavo con l'acqua fredda se era freddo le lavavo con l'acqua calda andavo in bagno un attimo prima di cominciare mi lavavo le mani le asciugavo però prendevo subito velocemente la poi non lecco le dita mi dà fastidio non sopporto questa cosa ma questa è una cosa che ognuno di noi è personale quando lavo la mano la prima volta poi la mia percezione è pulita e la cosa più importante è pesce di aver detto tutto a livello proprio a un'altra cosa che facevo è sistemarmi i pantaloni sistemarmi i calzetti legare bene le scarpe perché non sopportavo cioè se gioco adesso in questo momento metto lì e gioco non sento la differenza se un calzino è basso e alto se i pantaloni non si tirate su bene se la maglietta è un po così storta ma quando giochi in una partita sei veramente concentrato io percepivo ogni minima cosa del mio corpo se il calzino era storto mi dava fastidio se la scarpa non era ben allacciata mi dava fastidio perché sentivo di non essere e quindi tiravo sui pantaloni legavo le scarpe tiravo sui calzetti perfetti in maniera di non sentire quel fastidio che cala il calzino mentre giochi che sembra una stupidaggine però mentre giocavo mi distraeva questa cosa per quello poi anche Van Gerwen lo fa quando giocavo di solito quando si incacchiava sistemava i calzini e voi sapevate che quando sistemava i calzini per l'avversario era finita era famosa questa cosa di Van Gerwen io lo facevo prima a prescindere perché sennò il problema poteva essere superiore insomma io sono sicuramente Van Gerwen però mi rendevo conto che se avevo qualcosa fuori posto mi dava fastidio questa è una cosa fondamentale ok? fatto questo cercavo in tutti i modi di spegnere la testa da tutti i pensieri ci sono vari esercizi che si possono fare ma ci sono delle cose che possono andare bene per tutti però io non mi sento di parlare di questa cosa nel senso che è un discorso che è meglio quando uno lo fa lo fa uno vis a vis perché puoi vedere anche la persona che è di fronte ci sono varie sfaccettature per lavorare sulla questione di di concentrazione di prepararsi di auto io cercavo veramente di respirare che è una cosa fondamentale lo dico sempre respirare, fare belli respiri lunghi e concentrarmi soltanto mi sedevo magari in parte stavo così con gli occhi chiusi respiravo mi concentravo nelle frecce tenevo la mia frecce in mano così la mia testa no? dicevo delle varie cose no? spegnevo tutto il resto tutto quello che mi era successo nella giornata tutto quello che mi stava capitando cercare di spegnere il cervello e rimanere concentrato più importante era la partita più questa cosa la facevo perché se giocavo una partita normale dove magari sapevo che il mio avversario non era insomma fortissimo mi concentravo giusto un attimo mi mettevo lì chiudevo gli occhi davo due colpi di respiro e tiravo quando sapevo che il giocatore era molto forte la concentrazione era elevatissima ok? come quando ho fatto la semifinale che giocavo con un giocatore molto forte e valeva andare sul pedanone a Bologna la mia concentrazione era talmente tale che io non ho sentito niente a parte due robe che ho raccontato che proprio hanno urlato ho sentito la voce ma la mia testa era soltanto tiro a bestia come una iena e finisce lì questo è fondamentale rilassarsi e concentrarsi perché in quei pochi secondi devi tirare l'inferno ok? quando giocavo ai tornei al mattino quella cosa lì mi veniva fatica perché al mattino io sono un po' rimbambito facevo moltissima fatica ad avere quel livello di concentrazione così alto perché la sera pomeriggio giocavo sempre meglio la mattina infatti per me i tornei cominciavano la mattina difficile però quando dovevo fare veramente la partita della vita per la squadra e per cui non era una cosa che se perdevo io chi se ne frega ma per la squadra cercavo in tutti i modi di concentrarmi quindi spero di aver detto tutto di non essermi dimenticato qualcosa ciao Damiano magari se volete avere qualche altra piccola cosa ma è una dita comunque concentrazione e respiro fondamentale sappiate la cosa più fondamentale che ci possa esistere potrei fare un trattato di 20 ore su solo respiro è concentrazione però poi dipende da persona a persona ok detto questo ragazzi vi ricordo sempre il libro The Big Fish of Darts ieri è stato no non ieri oggi siamo martedì domenica è stato un amico a trovarmi abbiamo fatto una partita ha perso 11 a 4 ha giocato 89 di media lui ha cercato di è un giocatore anche lui non ce l'ha fatta e a fine partita ha comprato il libro quindi sappiate che detto questo trovate il link in descrizione vi saluto state bene giocate divertitevi prima cosa ah complimenti al club dal club sul serio se non sbaglio ma farò un video anche questo farò un video dove devo ancora farlo ma devo mettermi l'emi sedermi e fare ok ragazzi saluto a tutti